Sei pronto ad ascoltare una storia in italiano per principianti e a rispondere correttamente alle domande? Ciao, sono Mattia di Lingua Franca. Nel video di oggi testeremo la tua capacità di ascolto in italiano. Prendi una penna e un foglio di carta e cominciamo subito! Alberto, mentre cammina per le strade della sua città, vede un negozio di animali. Decide di entrare. Vede molti gatti, ma uno in particolare attira la sua attenzione. Un piccolo gatto persiano dalla pelliccia morbida e lucida. Alberto decide di comprarlo e di portarlo a casa. Il gatto è un po' timido all'inizio, ma in breve tempo diventa molto affezionato ad Alberto. Alberto chiama il gatto Pimpi e lo porta sempre con sé. Si divertono insieme a giocare con la palla e a correre nel parco. Alberto è molto felice con Pimpi. Fine del primo ascolto. Sei pronto a sentire la storia per la seconda volta? Alberto è il gatto persiano. Alberto ha sempre voluto un gatto. Un giorno, mentre cammina per le strade della sua città, vede un negozio di animali. Decide di entrare. Vede molti gatti, ma uno in particolare attira la sua attenzione. Un piccolo gatto persiano dalla pelliccia morbida e lucida. Alberto decide di comprarlo e di portarlo a casa. Il gatto è un po' timido all'inizio, ma in breve tempo diventa molto affezionato ad Alberto. Alberto chiama il gatto Pimpi e lo porta sempre con sé. Si divertono insieme a giocare con la palla e a correre nel parco. Alberto è molto felice con Pimpi. Fine dell'ascolto. Sei pronto a rispondere alle domande? Avrai circa dieci secondi di tempo per rispondere a ogni domanda. 1. Cosa voleva Alberto? A. Un cane B. Un gatto C. Un pesce O. D. Un uccello Alberto voleva un gatto. Alberto ha trovato un gatto in un negozio di animali. La risposta giusta è la D. Alberto ha comprato un gatto persiano. 4. Come si chiama il gatto di Alberto? Pablo, Pimpi, Pisti, Popi. Il gatto di Alberto si chiama Pimpi. 5. Come si sente Alberto con Pimpi? A. Triste B. Felice C. Spaventato O. D. Annoiato La risposta giusta è la B. Alberto con Pimpi si sente felice. 6. Con cosa gioca Alberto con Pimpi? Con un libro, con una palla, con un osso o con una scarpa? La risposta giusta è la B. Alberto gioca con Pimpi con una palla. 7. In quale luogo gioca Alberto con Pimpi? A. Nel negozio B. In casa C. Nel parco O D. A scuola La risposta giusta è la C. Alberto gioca con Pimpi nel parco. 8. Quando si è affezionato il gatto ad Alberto? A. Subito Mai Dopo un po' di tempo Dopo un anno La risposta giusta è la C. Il gatto si è affezionato Alberto dopo un po' di tempo. 9. Com'era il gatto all'inizio? Felice Sciocco Timido O arrabbiato? La risposta giusta è la C. All'inizio il gatto era timido. 10. Com'era la pelliccia del gatto quando Alberto l'ha visto per la prima volta? La risposta giusta è la B. La pelliccia del gatto era morbida e lucida. Fine delle domande Come è andata? Sei riuscito a rispondere correttamente a tutte le domande? Fammi sapere in un commento qui sotto come è andata. E se vuoi continuare a mettere alla prova il tuo italiano, clicca qui per trovare tanti altri test. Per oggi è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!